La Bazzarra compie 30 anni. L'associazione fondata da Gigi Di Luca, nata per dare lustro allo spettacolo del teatro nel Vesuviano, celebra l'importante anniversario con varie iniziative. Un percorso lungo, siamo felici, siamo contenti, vogliamo rendere partecipe tutta la nostra città e il territorio in cui per 30 anni abbiamo operato e continuiamo a farlo. La Bazzarra nasce il 21 dicembre del 1991 con l'apertura della scuola di teatro a cui poi abbiamo dato seguito con tantissime iniziative importanti. Ricordiamo il Festival Etnos, il Divino Jazz Festival, l'Open Festival, Devozioni Festival, Stradarte, ma anche i lavori fatti con i diversamente abili dell'Istituto Donnorione, i progetti formativi con le scuole, i laboratori artistici, le produzioni teatrali. Diciamo che 30 anni non ce li sentiamo addosso anche perché abbiamo ancora tantissime cose da fare, ma soprattutto ci fa piacere essere stati coloro che hanno avuto visioni possibili da concretizzare dove la cultura si poneva già allora a servizio del sociale. Oggi c'è ancora più bisogno di essere proiettati verso un recupero dell'identità, del valore, dell'unione, delle sinergie, quindi della cultura non chiusa solo negli spazi ma a servizio della collettività. E quindi nel 2022 celebreremo degnamente questo traguardo con tantissime iniziative, una su tutte, realizzeremo il Festival del Mare, un nuovo progetto che la Bazzara si è accreditato finanziato dal FLAG, che si terrà su quattro città, Ercolano, Porte, Città Renunziata e Torre del Greco, che partirà nei primi mesi del 2022 e arriverà fino ai mesi estivi, con convegni, attività con le scuole, concerti, spettacoli, valorizzazione e poi ancora un progetto POC UNESCO che faremo ad Ercolano, ancora faremo il Festival Eccolo e tantissime altre cose che non staremo qua a dire, ma soprattutto segneremo ancora di più il territorio con le innovazioni, perché la Bazzara io credo che abbia avuto sempre una visione molto contemporanea dei percorsi da fare, e quindi anche il recupero della tradizione viene vista soprattutto in una logica del presente. Oggi le città sono mutate, abbiamo città multiculturali, abbiamo disagi sociali, per cui come dire, leggere la bellezza che è nell'interiorità di ogni essere umano. Noi ora su questa prossima settimana saremo a Massa Lubrense con uno spettacolo con Servillo e Sparagna, e poi nel Comune di Napoli con questo mio lavoro, Stanze di Identità Teatrale, dove anche lì in spazi sit specifici saremo in grado di percorrere l'essere umano in tutti i sensi. La Bazzara nasce qui perché io ho voluto fortemente radicarla nel Vesuviano, è attore del Greco, ma certamente è accreditata in tutti i settori istituzionali e non abbiamo avuto anche il riconoscimento dal Ministero per il Festival Etnos, in Regione Campania. Insomma siamo una realtà che guarda avanti, che è aperta, che fa formazione. Io penso anche che la nostra scuola di teatro abbia dato tanta spinta a giovani che si sono incamminati verso questo mestiere, e non, cioè il percorso di visione, di apertura che la Bazzara ha saputo costruire, ha dato, ha spinto, ha portato innovazione, ha portato idee soprattutto, idee possibili, nascono da questa visione anche europea, come dire, globale che noi abbiamo, recuperando però il locale.